Buongiorno a tutti e benvenuti al corso di Image Processing and Computer Vision Questo corso è un corso di sostanzialmente 6 crediti Vediamo qua in questa slide una brevissima introduzione Sono 6 crediti, quindi ci saranno 3 ore di lezione, tipicamente a lunedì Naturalmente come sapete la situazione è piuttosto difficile E pertanto la gestione delle lezioni è molto diversa dal solito Per cui anche per questo corso non si ha una lezione in presenza Ma si ha esclusivamente una lezione in videoregistrata sostanzialmente O videoregistrata o in videoconferenza Diciamo che per il momento l'idea è quella di gestire la lezione del lunedì Tramite due lezioni da un'ora videoregistrate Che verranno messe con qualche giorno anticipo Oggi è un po' un'eccezione Ma diciamo che in generale io spererei di inserirle prima del venerdì In modo tale che voi possiate vederle, seguirle con comodo E poi a lunedì, lunedì l'orario dalle 10 alle 13 Come vedete come è scritto qua in questo slide L'aula sarebbe la 7b ma naturalmente non la possiamo utilizzare E quindi anziché fare l'orario dalle 10 alle 13 come previsto Noi ci vedremo alle 12 ma ci vedremo in videoconferenza E quindi utilizzeremo lo strumento Virtual Classroom Messo a disposizione dal Politecnico per fronteggiare la situazione Ora, per quanto riguarda invece il laboratorio In laboratorio la situazione è ancora più difficile Perché chiaramente un laboratorio richiede interazione E purtroppo noi non possiamo avercela Pertanto l'idea è quella di gestirlo in questa maniera Luigi De Russis, il mio collega Metterà anche lui con anticipo il laboratorio Le esercitazioni di laboratorio sul portale Questa è già stata messa oggi In questo modo voi avrete modo di vederla E insomma di provarla un pochettino Provare a vedere delle cose Insomma a capire cosa vi interessa Cosa vi manca per poter svolgere il lavoro Dopodiché martedì alle 8 e mezza Anziché alla BINF Ci si vede in videoconferenza Vi vedete con il mio collega In taluni casi ci potranno essere anche degli scambi Per esempio ci saranno delle lezioni in cui verrà il mio collega E dei laboratori in cui verrò io Però questo lo vedremo di volta in volta E quindi sostanzialmente Durante questa ora e mezza di laboratorio Funzionerà sulla base di una specie di consulenza Ecco mettiamola così Nel senso che sarà possibile Porre domande Avere risposte Poi ovviamente Qualora abbiate degli altri dubbi Si può anche procedere via posta elettronica Vi chiederei soltanto per favore Nel caso della posta elettronica Di moderare al massimo i messaggi Perché naturalmente Diventerebbero assolutamente ingestibili Se fossero troppi messaggi Ovviamente non c'è solo il vostro corso Quindi ricevere magari 100 messaggi al giorno Sarebbe assolutamente ingestibile Come voi capite Per quanto riguarda il materiale Come vi dicevo Ci saranno per le lezioni Queste due registrazioni da un'ora Che appunto Permetteranno di coprire la parte di teoria Alle quali si aggiungerà Mezz'ora, 40 minuti Vedremo di videoconferenza Vedremo anche Da come funzionerà il tutto lunedì Cercheremo di capire anche Se il funzionamento sarà ottimale Oppure se ci saranno dei problemi E oltre a queste video lezioni E oltre al materiale di laboratorio Ci sono già le slide Queste slide che vedete adesso Sono già disponibili sul portale E poi naturalmente dei libri Dei libri Allora il libro forse più importante E questo qua Ecco come potete vedere Questo è il Gonzales Digital Image Processing Che è assolutamente un libro eccellente Contiene un po' tutto quello che ci serve E noi in realtà Ne utilizzeremo una piccola parte Ad essere sinceri E se voi scorrete le slide Potete vedere che a parte quelle dell'introduzione Vi sono dei blocchi di slide Che sono derivati direttamente dal Gonzales Perché è possibile mettere Il Gonzales messo a disposizione Delle slide Che poi possono essere utilizzate Per fare lezione Quindi per esempio il blocco 2 È realizzato in questa maniera Altri blocchi invece che sono realizzati Completamente ex novo E in tal caso sono con licenza Creative Commons Naturalmente non è possibile mettere Come Creative Commons Il materiale prelevato dal Gonzales Perché io non ho la licenza Per rendere il tutto Creative Commons Chiaramente Poi ci saranno ovviamente altre risorse E altre cose Quali suggerite nelle slide Per esempio per i laboratori Potrà essere necessario avere dei software aggiuntivi Noi quest'anno In modo se vogliamo un po' casuale Però abbiamo Utilizzeremo esclusivamente software open source Perché negli ultimi anni Utilizzavamo per il corso di computer vision Che è quello da cui è derivato questo corso Ci sono sostanzialmente minime differenze Probabilmente vedremo qualcosa in più E qualcosa in meno da qualche altra parte Ma non c'è una grande differenza Ebbene negli anni scorsi Ebbene negli anni scorsi Noi utilizzavamo un programma Chiamato ImaTest Che permette di effettuare Dei test Di telecamere Industriali e quant'altro E quest'anno non lo utilizzeremo più Utilizzeremo un altro software Che si chiama MTF Mapper Che è open source Quindi non ci crea problemi Altrimenti di nuovo Voi avreste avuto problemi Perché nei live Nella BIMF Ci potrebbe essere la licenza Ma chiaramente a casa vostra Non sarebbe possibile Bene quindi questo è per quanto riguarda Il materiale Ah dimenticavo Come avrete già visto Sul portale sono disponibili anche Le video lezioni del corso di Computer Vision Perché io l'anno scorso Avevo registrato tutte le lezioni E pertanto ho pensato di renderle disponibili Il corso non è lo stesso Ma come vi dicevo è estremamente simile Per cui mi è sembrato opportuno Renderle disponibili Quindi sostanzialmente voi avrete Le video lezioni dell'anno scorso E anche le video lezioni di quest'anno A compensare se vogliamo Le anomalie legate a Purtroppo a questa grave epidemia Bene ora veniamo all'esame Allora l'esame si svolge sostanzialmente in due parti Come avrete anche visto sulle specifiche C'è l'esame scritto L'esame scritto sono alcune domande A cui A risposta aperta A cui dovete rispondere E poi A volte può anche esserci un orale Può essere richiesto da noi Per vari motivi In generale non capita E poi però l'altra cosa molto importante È il lavoro L'homework Chiamiamola tesina Chiamiamola come vogliamo Che è obbligatorio Questo perché A mio parere Questo è un esame comunque Nella specialistica E quindi è necessario che le persone Oltre a studiare Abbiano anche delle capacità Tecniche di sviluppo Se vogliamo Insomma di capacità di gestire progetti Effettivamente molti corsi Della nostra laurea hanno questa caratteristica Ovviamente questo tipo di lavoro Porta via del tempo Però In cambio Diciamo che l'esame scritto È meno Impattante Per certi versi Questo lavoro Questo progetto Può essere Individuale Oppure di gruppo Ovviamente noi Tenderemmo A non avere Gruppi troppo grandi Quindi un gruppo significa due persone Rari casi tre Non di più di sicuro E naturalmente Sarà possibile Scegliere Il lavoro Che più si desidera Da una lista Di progetti Che verranno poi Messi a disposizione Sul portale in seguito Sarà anche possibile Formulare Delle proposte Che verranno eventualmente Prese in considerazione Insomma A seconda dei casi Bene Quindi stavamo dicendo Possiamo procedere Come vi dicevo L'orario È il seguente Martedì Dalle 10 Scusate Lunedì Dalle 10 Alle 13 Anche se vi ricordo Che l'appuntamento In videoconferenza È alle 12 Non alle 10 Alle 12 Questo perché Si considerano Le prime due ore Di video lezione In precedenza E poi si avrà Mezz'ora 40 minuti Quello che c'è Di videoconferenza Per i dubbi O per domande O per quant'altro Il laboratorio Invece sarà Il martedì Dalle 8.30 Alle 10 Anche se sarà In videoconferenza E quello sarà Effettivamente L'8.30 Ok Poi Per Vedete che qua Ci sono dei suggerimenti Addizionali Per quanto riguarda Ah Lì c'è anche Naturalmente Vedete il riferimento Alla BINF Sperando Di riuscire A tornarci Il più presto possibile Poi vedete che ci sono Delle suggerimenti Addizionali I laboratori Durano in media Due settimane Nel senso che Per esempio Il laboratorio Che vi è stato fornito Oggi È un laboratorio Che durerà Due settimane È il laboratorio Introduttivo Quello in cui Si iniziano A fare delle prove Con le immagini Cose che probabilmente Voi avete anche già fatto Comunque sia Per i laboratori Numero 1 E numero 2 Diciamo che Di solito È suggerito Oppure anche richiesto Avere a disposizione Una macchina fotografica Digitale Eventualmente Anche un modello Semplice Può andare bene Anche un cellulare Pochè scatti Delle fotografie Decorose In modo tale Da avere Delle fotografie Poi da analizzare Per il laboratorio Due Ed anche Per i successivi Invece È importante Avere a disposizione Il notebook Beh Ovviamente Siccome le esercitazioni Non si svolgono La BIMF Il notebook O comunque Il computer Mi spiace Ma è indispensabile Per tutti voi In realtà Non credo che sia un problema Però Per il laboratorio 2 E per i successivi È importante Avere un notebook Con la webcam Quindi eventualmente Potete attaccare Una webcam esterna Perché Serve per gestire Dei video E anche Dei frame singoli Con OpenCV Perché Quello che utilizzeremo Dopo Sarà OpenCV Tutta la parte Di sviluppo E quindi anche I progetti Individuali E di gruppo Sono realizzati In OpenCV Che come dice il nome Sta per OpenCV È una libreria Molto diffusa Che è in grado Di fare moltissime cose Bene Diciamo che Adesso potremmo Cominciare a vedere Qualcosa Relativamente A come sono Le immagini Lo scopo Della Della prima Esercitazione È quello Di lavorare Un po' Sulle immagini E quindi Possiamo Per esempio Fare una prova In modo tale Che così voi Possiate Insomma Vedere un po' Allora Il software Che Utilizzeremo Anche qui OpenSource E Gimp E Quindi Possiamo Lanciarlo Per tale motivo Per esempio Cominciamo Partiamo con un'immagine Vediamo un po' Ecco qua Ecco qua Ok Allora Come vedete Ho lanciato Il Gimp Gimp Come preferite Chiamarlo E Ho caricato Un'immagine Un'immagine Che ho scelto Ovviamente Ad hoc Perché Permette Di vedere Delle cose Interessanti Allora Vediamo un po' L'interfaccia Di Gimp O Gimp E vediamo Le cose Più Utili Ok Allora Vedete Che noi Qui abbiamo Sostanzialmente Un menu file Che serve A aprire Chiudere File Salvare Di solito Se voi Volete Salvare C'è un suo Il Gimp Ha un suo Formato Di file Ma Potete anche Esportare I file In un altro Formato Qui vedete Che abbiamo Caricato Un file PSD Che è un File di Photoshop Perché Questo file Era stato Realizzato Tempo fa E In realtà Questo file Se voi Ci fate caso Dal nome Qualcuno Di voi Riconoscerà Questa Stringa MG 8605 A parte Il numero Significa che è stata scattata Con una macchina fotografica Canon Però Questo è un altro Discorso Quindi vedete Voi avete Questo menu Poi abbiamo Il menu Di edit Il menu Di edit Contiene ovviamente Un sacco di cose Noi non vedremo quasi nulla Di tutto ciò E' importante L'undo E il redo Perché se voi Effettuate qualche Modifica indesiderata Potete tornare indietro Select Serve ad effettuare Le selezioni Come sempre Vedete se voi Volete selezionare Tutto Fate contro La E vedete che lui Seleziona Tutta l'immagine E poi se volete Potete fare Deselezionare E va bene Dopodiché Invece Il menu View E Anch'esso Non particolarmente Importante Per i nostri scopi Invece Il menu Importante Uno Il primo Dei menu Importanti Per noi E' il menu Image Allora Se voi ci fate caso Qui noi abbiamo Una serie di cose Per esempio Mode Vedete che Qui c'è scritto RGB Oppure Grayscale Quest'immagine E' un RGB Era stata scattata Con un piccolo Telescopio Con una macchina Fotografica Canon Ok Volendola posso Posso trasformare L'immagine In grayscale Allora se voi andate A guardare Vedete qui c'è L'istogramma Io se voglio Nell'istogramma Posso Vedere Tutti e tre I canali Ok Ebbene I canali Se non avete L'istogramma L'istogramma Lo potete Estrarre Mi sembra Da Colors Nel senso che C'è la possibilità Di mostrarlo Se non ce l'avete Eccolo A qualche parte Vabbè E Comunque Si può attivare Se non è già attivo E vedete che qua Ci sono sovrapposte Le tre curve Rosso, verde e blu Che sono un po' Sfalsate Però Innanzitutto Partiamo da Una definizione Che è molto importante Perché La vedremo Meglio Nel seguito Però E' importantissima Perché se voi Volete utilizzare Il photoshop Per Il primo laboratorio Dovete avere Le idee chiare Allora Vedete che Questo è una specie Di grafico Una funzione E in ascissa C'è il tono Di grigio Corrispondente L'immagine A colori Quindi significa Che il tono Di grigio Corrisponde Al grigio Del colore Corrispondente Quindi per esempio Nel caso Se io seleziono Ad esempio Il verde Questo significa Vedete che qui Mi compare in verde Significa che Man mano che vado in là Qui è 0 Di verde E qui è 255 Di verde Allora 255 No in realtà Non è 255 Perché questa è un'immagine Un po' particolare E è un'immagine Che è In realtà A 16 bit 16 bit Perché È stata catturata In raw Dalla macchina fotografica Quindi ha una qualità maggiore E vedremo Più avanti Perché questi 16 bit Sono così importanti Quindi in ascissa Il valore Che va per esempio Da 0 A 255 Oppure Su 16 bit Da 0 65.535 Mentre invece In ordinata Qua Noi abbiamo Il numero di pixel Che ha quel valore Che possono essere 1, 2, 100, 1000 E' chiaro che La somma Di tutte Diciamo l'integrale Di questa funzione Deve dare un numero di pixel Che è pari al totale Della Della nostra immagine Ok Che vedete Che è un 2108 Per 2092 La fotografia originale Non era certo Con questo formato Qui è stata ritagliata apposta Per non avere Parti inutili Perché voi capite Che il resto Chiaramente è nero Dopodiché Quindi vedete Se io torno Al mio histogramma In RGB Vedete che io ho a disposizione Tutti i miei colori Ora Queste sono cose Che probabilmente Alcuni di voi O anche molti di voi Hanno già visto Quindi Non mi soffermerò Più di tanto Però Sono comunque Molto importanti E soprattutto Io ho scelto Quest'immagine Perché vedete Che è sostanzialmente Composta da due parti C'è la luna Che è apparentemente Bianca E poi c'è lo sfondo Che è nero Ok Non ci sono stelle Perché non abbiamo Un'esposizione sufficiente A vederla Ma questo è un altro discorso Ora Se voi andate a guardare L'istogramma L'istogramma Vi ricordo che Siccome Per esempio In questo caso Noi abbiamo tutti i pixel Vedete Lui mi dice Per esempio Qua ci sono 200 pixel Qui Ce ne sono 44.000 Ok Perché vedete che qui Oltretutto Io ho fatto una visualizzazione Logaritmica Se io faccio una visualizzazione Lineare Vedete che cambia drasticamente Ok Poi io qua Per esempio Posso mostrarli Nello spazio Percettivo Oppure Mostrarli In modalità Nello spazio lineare Vedremo brevemente Cosa vuol dire Però In modalità logaritmica È interessante Perché Si vedono Maggiormente Queste differenze Comunque Indipendentemente Da questo Se io mi metto qua Vedete ho 28.180 pixel Che hanno quel valore Ok Mentre qua Ne ho molti di meno Vedete 325 Se ci fate caso Questo Questo sbalzo Non corrisponde Apparentemente Perché se qui è 325 E qui è 28.000 Uno si aspetterebbe Una differenza Esorbitante Se fosse lineare Ma è logaritmico In Semilogaritmico Il grafico Bene Allora Quello che volevo dirvi È che Se noi per esempio Lo mettiamo in Così Lo vediamo meglio Vedete Noi qui abbiamo Una parte Dell'esposì Dell'istogramma Che è qua E questo è il nero Che cos'è quindi È lo sfondo E poi abbiamo Quest'altra parte Che è chiaramente La luna Ok Quindi Questo significa Che noi per esempio Potremmo fare Una cosa interessante Potremmo Prendere Soltanto La luna Ok Perché vedete Qui non è proprio zero È zero Ma c'è anche qualcosa Che non è proprio zero Vedete Per esempio Io mi metto qua E vedete Che lui mi dice Che ci sono 25.000 pixel Che hanno un valore Che non è zero Ok Ora È molto vicino a zero Però non è zero Quindi Cosa possiamo Cosa serve a questo esempio Questo esempio serve A far vedere Come è possibile Effettuare il riconoscimento Di oggetti Nei casi più semplici Questo è un caso molto semplice La distribuzione Dell'istogramma Ha chiaramente Due picchi Per cui è molto facile Isolarne uno Ad esempio Come facciamo a isolarlo Noi andiamo Qua Andiamo a prendere Levels Levels mi permette Di andare a manipolare Gli istogrammi Direttamente Io vado direttamente Sul value Che sarebbe La luminanza Quindi sostanzialmente I tre canali messi assieme Dopodiché Io faccio così Vado a prendere Questo cursore Lo aggancio Non ci riesco Però adesso lo aggancio Ecco Ce l'ho fatta E lo metto qua Dove finisce Più o meno Dove finisce Il mio La mia montagnola E poi Vado a prenderlo di qua E faccio una cosa Di questo genere Ok Allora Siccome qui c'è il preview Se ci fate caso C'è stato un miglioramento Vistosissimo Ok Cosa si intende per miglioramento Beh Si vede meglio Su questo non c'è dubbio Vedete Io faccio così Poi Premendo il tasto più Io posso ingrandire Ok Se ci fate caso Si vede molto meglio di prima Cosa vuol dire Che si vede molto meglio di prima Vuol dire che il contrasto è aumentato È aumentato moltissimo Meno ovviamente Per ridurre l'ingrandimento Questo per esempio È il mare Crisium E se voi andate a guardare Per esempio lì Vedete che abbiamo Molti più dettagli Rispetto a prima Ok Come è fatto questo istogramma Dopo il trattamento Lo mettiamo in logaritmo Per vederlo Questo è il risultato Ok Bene Adesso facciamo undo Vedete Se io faccio ctrl z E torna come prima Ok Quindi questo significa Che se noi andiamo Ad effettuare questa operazione Riusciamo a scorporare Il fondo dalla luna Questo è possibile Ad esempio Anche in altri casi Che possono ritornarci utili Perché Lo scopo di questo corso È Quello di fornire Dei metodi Per l'acquisizione Delle immagini Per il trattamento Delle immagini E anche per L'estrazione Di caratteristiche Dalle immagini Ora Il corso È maggiormente Incentrato Sull'acquisizione Sul trattamento Delle immagini Meno Sull'estrazione Di dati Dall'immagine Però Ciò non toglie Che per riuscire Ad estrarre Correttamente i dati È assolutamente Fondamentale Avere Delle immagini Di alta qualità E Per esempio Un'immagine A 16 bit È sicuramente Di alta qualità Ora Quindi Supponiamo Di voler Catturare L'immagine Di una mano Di una mano Che si muove Per ad esempio Per georeferenziare Nello spazio La mano E posizionarla In qualche maniera Ora Siccome la mano Ha un suo colore Io posso distinguerla Se lo sfondo È diverso Per esempio Se c'è un muro bianco Sullo sfondo Posso distinguerla Abbastanza agevolmente Ok Vi ricordo anche Che questo tipo Di distinzione Si può fare Nell'RGB Ma si può fare Anche Assai meglio In altri spazi Che voi avete già visto Nei corsi precedenti Per esempio L'HSV Ok Ora Come faccio A fare una cosa del genere Vedete che se io faccio Image Mode Vedete qui A grayscale Qui è precisione Color management Ma c'è anche Transform Allora Scusate Eccolo qua Colors Eccolo qua Vedete Io posso andare A modificare I vari componenti E per esempio Posso anche estrarli Ok Ad esempio Extract component Che cosa posso estrarre Posso estrarre Vedete che Posso estrarre un po' Quello che voglio Per esempio Posso estrarre La saturazione Ok Eccola qui Io faccio ok Poi tolgo l'ingrandimento E questa è la saturazione Vi ricordo che L'HSV O HLS Ha un significato fisico Che rende questa Questa modalità Di visualizzazione Delle immagini Particolarmente interessante La H Sta per U Ed è sostanzialmente Se vogliamo Dare un paragone fisico La lunghezza d'onda Dominante Della Del Del dato Ok Quindi Un'immagine Formata Da Così come un segnale È formato Da svariate frequenze In questo caso Sono frequenze Spaziali In questo caso In particolar modo Sono colori Ok Quindi Non sono delle frequenze Spaziali E Il nostro colore Ha uno IU Cioè Una Una tinta principale Che è adesso Rosso Per dare un esempio Diciamo verde 520 nanometri Ok Quindi Se io Ho Una 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 Sorgente Rigorosamente Verde Monocromatica Avrò un certo IU H Ok Poi avrò Una Saturazione Pari a 1 Quindi elevatissima Perché Non si ha La sorgente Se vogliamo È strettamente Monocromatica E poi avrò Una V O comunque Un valore Di Un valore Quindi Un'intensità Che dipende Dall'ampiezza Dell'onda Quindi Nel caso Della nostra Rappresentazione Fisica H È la Frequenza Dell'onda Ok La saturazione È Quanto Lo spettro Ottenuto Da trasformanza Di furie Di quel segnale È stretto Cioè È una delta E Mentre invece V È l'ampiezza Dell'onda Quanto L'onda È ampia Complessivamente Quindi Questo H Se V Dà Una Rappresentazione Fisica Che è Molto Interessante Ora Se Do Extract Component Ok Se noi Torniamo indietro E poi Andiamo A Riprendere Quello che ci vuole Quello che Stiamo cercando di fare Prima Estraiamo un'altra Componente Estraiamo Però Ad esempio Il La Anziché questo Possiamo estrarre La saturazione Ok Anche qui Abbiamo un valore Più strano Se vogliamo Se noi Per esempio Andiamo a prendere Semplicemente La lightness Se ci fate caso È sostanzialmente Come prima Ok Bene Quindi Quindi Questo significa Che con Con Molti dati Molto interessanti Questo è un tipo Di immagine Che può essere Separata in parte Abbastanza efficacemente Ok Proprio come potrebbe essere Con una mano Su uno sfondo bianco Però Come vi dicevo Per effettuare Questa estrazione Diventa ancora più comodo Effettuarla Se Noi abbiamo A disposizione L'HSV O cose di questo genere Ora Però Volevo completare Poi dopo Torniamo alle slide Perché Abbiamo Un'introduzione Da fare Anche perché Io adesso Vi ho parlato Di histogramma Però ovviamente Va introdotto In modo Un po' più formale Comunque Se voi andate Qui E ingrandite Quest'immagine E Aspettate Facciamo così Allora Scusate Ecco Così Ecco Allora Vedete L'immagine È a colori Ok Per esempio Questo bordo blu È legato al fatto Che La fotografia È stata scattata Con un telescopio A lenti E questa è L'aberrazione cromatica Ok Vedremo Le aberrazioni Più avanti Ora In generale Qui Quest'immagine Soffre di Un scarso Contrasto Ok Eppure La domanda Potrebbe essere Ok Allora Qui per esempio Abbiamo Un istogramma Fatto in questa maniera Ma La domanda potrebbe essere Questo istogramma È stato È buono Cioè Questa è una bella fotografia Ora Se noi dovessimo usare Il criterio di bella Come potrebbe essere Una fotografia Che deve essere Appesa in una mostra Chiaramente Questa non sarebbe Una bella fotografia Perché Come si dice È piatta Nel senso che Non ha profondità Ok È tutto molto piatto Però Dal punto di vista Scientifico Perché noi Questo è un corso In cui Io sono sempre stato Molto interessato All'aspetto industriale Dell'image processing Perché È Una parte Diciamo È un aspetto Che può Essere A parte il fatto Che mi interessa molto Però Ha delle ricadute Lavorative Molto sostanziose Perché Oggigiorno Le aziende Sono tutte Interessate All'image processing Principalmente Per il controllo Di processo Quindi Se voi Andrete a trovare Troverete lavoro All'interno di un'azienda Per occuparvi Di immagini Sarete Probabilmente Anzi Quasi sicuramente Impegnati Nel controllo Di processo Quindi Controllo di processo Significa Che dovrete Fare delle misure Di un qualche tipo Da sensori Di vario genere E magari Anche da immagini Ok Quindi La domanda In questo caso È Questa immagine Questa immagine Nella luna Che io ho scelto Appunto Per vari motivi È un'immagine Che è scientificamente Valida La risposta è sì La risposta è sì Perché Vedete L'istogramma È posizionato Il più a destra Possibile Ma non troppo A destra Vedete Se ci fate caso Qui non va A toccare Contro il bordo Il bordo Sarebbe la saturazione Quindi In sostanza Qui Non ci sono pixel Che sono Come si direbbe In linguaggio fotografico Sovraesposti Perché vi ricordo Che Quando io scatto Una fotografia Un oggetto Per riuscire A vederne bene Tutti i dettagli Devo avere Non devo avere Nessun dettaglio Che è sottoesposto Quindi sostanzialmente Con valori Potenziali sotto a zero Quindi Invisibile Perché zero Diventa nero Anche se l'oggetto Non è nero Ma non devo neanche avere Parti dell'immagine In cui il valore È sopra L'è il massimo Perché sono Come si dice Bruciati E quindi Non ho dettagli Al di sopra In questo caso Noi abbiamo a zero Il cielo sottostante Che però ci interessa Molto poco Mentre invece Qui abbiamo La luna Che invece Non è bruciata Perché l'istogramma È a destra Ma non è Completamente a destra E soprattutto Non c'è nessuna parte Dell'istogramma Che esce fuori In particolar modo Se io voglio Posso per esempio Anche intervenire Su questo tipo di Di cose E ad esempio Posso Modificare L'esposizione Ok Allora Eccolo qua Vediamo un po' No Dovrebbe essere Qua Mode Precision Color management Ok Transform Eccolo qua No Scusate Non è qua Eccolo qua Scusate Exposure Ok Allora Per esempio Supponiamo di Aumentare L'esposizione Eccolo qua Vedete cosa è successo Io ho aumentato L'esposizione Adesso L'aumento Ulteriormente Vedete che Una parte Dell'istogramma Esce fuori Ok Se io adesso faccio Ok Mi sparisce Diciamo L'ombra Dell'istogramma E quindi Questo significa Che io ho una parte Dell'istogramma Che è bianca Ok Completamente bianca Quindi Quei dati Sono andati persi Per esempio Mi aspetto che qua Sia una delle zone In questione Ok E Qui Io ho perso tutto Nel senso che Non vedo più Il dettaglio Adesso se io faccio Control Z Invece vedete che qua Ci sono dei dettagli Che qui Scusate Che qui sono visibili Ma Dopo Questo Trattamento Quindi facendo Una cosa del genere Vedete che non sono più visibili Sono andati perduti Quindi Bisogna assolutamente Evitare Di portare L'istogramma Troppo a destra Ok Però Voi direte Ok Ma allora Io lo posso portare Ancora un po' più a sinistra Ok Quindi Ad esempio Posso Portarlo più a sinistra Per portarlo più a sinistra Beh Io ci metto un segno meno Meno 1 Ok Eccolo qua Vedete che l'ho portato a sinistra Ok Cosa sono questi valori Questi valori sono degli ev Exposure value Vedete Meno 2 Meno 5 Vedete Meno 7 Ora vedete che qui Mi sono spostato a sinistra Di 7 ev E in questo modo Io sono sostanzialmente La mia immagine è diventata quasi tutta nera Che cos'è questo exposure value? È sostanzialmente l'equivalente del bit Nel senso che Nelle macchine fotografiche Vi ricordo Per chi di voi magari non ha dimestichezza sufficienza Ci sono sostanzialmente due controlli significativi Uno è il tempo di posa E cioè il tempo per il quale l'otturatore rimane aperto E quindi entra luce Nell'obiettivo E questa luce va a impressionare la pellicola O meglio il sensore digitale E il secondo controllo è il diaframma Il diaframma è un foro sostanzialmente Che può far passare più luce O meno luce Attraverso l'obiettivo Vado a prendere Facciamo una prova Vi faccio vedere un esempio Ecco qua Lo mettiamo qua Un attimo Vedete che qui adesso Mi sono un po' curato una macchina fotografica Ecco allora vedete Quando io smonto l'obiettivo Questo è l'obiettivo Ok E Scusate Lo devo rimontare Dopodiché Qui Vedete Ora al variare del diaframma Questa apertura Si apre di più o di meno Questo purtroppo è un obiettivo Automatico Per cui diventa difficile Mostrare questo tipo di effetto Però Si ha questo tipo di effetto Quindi noi abbiamo Due soli parametri Ok Scusate Eccolo qua Noi abbiamo solo due parametri L'otturatore Quindi il tempo di posa E il diaframma Spesso le persone pensano Che vi sia un terzo parametro importante Che è la sensibilità della pellicola E non è vero Non è vero perché la sensibilità della pellicola Per le macchine fotografiche moderne Che sono tutte digitali Altro non essendo il guadagno dell'amplificatore E il guadagno come noto Non influenza in alcun modo la quantità di luce che entra sul sensore Si limita semplicemente ad aumentare il volume Esattamente come io posso aumentare il volume del microfono che ho davanti Ma questo non significa che il segnale sia più pulito Significa semplicemente che viene amplificato Quindi questo significa che se noi andiamo da qui a qui E siamo su 8 bit 8 bit sono 8 diaframmi Quindi questi sono 8 diaframmi Se io per esempio adesso mi sposto Faccio un meno 8 Vedete che io sono praticamente messo lì E procedo ulteriormente Qui adesso ci metto 0 E vedete che lui torna lì Se mi sposto su di 5 diaframmi Vedete che io ho praticamente fatto scomparire la mia forma E questo significa che ogni volta che io mi sposto su un diaframma Io sostanzialmente raddoppio il valore Perché è a tutti gli effetti un bit Bene Ora quindi stavamo dicendo E' bene che il mio histogramma sia più a destra possibile Perché più a destra possibile? Perché io potrei dire Lo bene, l'importante è che sia ben centrato Piuttosto che essere tutto a destra Magari mi fa più comodo Che sia ben centrato In realtà no Vedremo molto più avanti nel corso Che l'istogramma deve stare il più a destra possibile Ovviamente non troppo Perché questo? Perché in realtà Qui noi abbiamo a che fare con i dispositivi Che sono soggetti a rumore Ok? Quindi significa che Noi abbiamo la nostra macchina fotografica E immaginate la luce come ovviamente una pioggia di fotoni Questi fotoni attraversano l'obiettivo E finiscono sul sensore Quindi se il sensore mi segna per esempio 120 Quindi sarebbe qui in ascissa Se il sensore mi segna 120 Per quel pixel Ok? In realtà questo vorrebbe dire sostanzialmente Che il mio convertitore analogico digitale È andato a prendere dei valori Perché vi ricordo che funziona così Il mio fotone attraverso l'obiettivo Finisce sul sensore Il fotone cosa fa? Induce un fotoelettrone Per effetto fotoelettrico Ok? Quindi si forma un elettrone all'interno del pixel Chiamata anche buca di potenziale E questo elettrone rimane lì, intrappolato Ok? Se... Dopodiché alla fine dell'esposizione Questi elettroni formano una corrente Questa corrente viene trasformata In valore digitale E quindi gli viene dato un valore opportuno Che va da zero fino alla saturazione Del convertitore analogico digitale Ora Il problema è che Quando io ho una certa quantità di luce che arriva In realtà non mi arriva quella quantità di luce Mi arriva quella quantità di luce Più o meno la radice della quantità di luce stessa Ok? Cioè ci sono delle fluttuazioni Perché la luce arriva Con una distribuzione che è chiamata Distribuzione Poisson Per inciso Se non ricordo male è la stessa della pioggia Quindi significa che se io mi metto in un punto Supponiamo che piove in un modo costante In realtà non piove mai in modo completamente costante Nel senso che ci sono le continue fluttuazioni Di più o meno radice della quantità Ora Questo significa che il valore che io ottengo qui Sarà questo valore Quindi qui Ok? Più o meno radice di questo Ora Questo fa sì Che Per meglio dire, scusate Il numero di foto elettroni che ci sono lì Ok? E quindi il corrispondente valore qua in ascissa E il valore più o meno la radice del valore stesso Quindi questo significa che Tanto più sarà preciso Quanto più sarà in là In quanto la radice è una funzione Non lineare Che cresce meno Rispetto alla crescita in ascissa Per cui questo significa che se io sono più a destra La radice influenzerà di meno Mentre invece se per esempio io sono vicinissimo Per esempio sono qua Mettiamo a 10 Ok? 10 Mi viene il valore 10 Più o meno radice di 10 La radice di 10 è circa 3 E quindi mi viene da 7 a 13 Se io invece sono a 1000 Per esempio Supponendo di essere a 16 bit 1000 La radice quadrata è 30 Ciò che ha 30 Quindi viene 1000 più o meno 30 Quindi da 970 a 1000 è 30 Ma quei 60 che ballano intorno al 1000 Sono molto meno in percentuale Di quelli che ballano intorno al mio 10 Che sono 6 su 10 Che è ovviamente molto di più Quindi questo spiega perché per ottenere immagini di valore scientifico Io devo andare a mettere l'istogramma il più a destra possibile Non troppo a destra ma il più a destra possibile Ora vediamo in azione Questo Il motivo Diciamo L'utilità di avere l'istogramma ben realizzato Quindi di avere una fotografia ben scartata dal punto di vista scientifico Voi capite che a questo punto a me conviene avere più gradazioni possibile Se possibile N bit Dove N più grande è meglio E Ok? Quindi qui ne abbiamo 16 bit In realtà non sono proprio 16 Perché il convertitore analogico digitale della macchina fotografica che avevo adoperato Credo se non ricordo male era 12 bit Però Viene poi immagazzinato su 16 In ogni caso meglio che su 8 Ora facciamo un esempio Andiamo a prendere questa immagine Tanto per cominciare Andiamo a pescare soltanto il canale Va Non vediamo Ma si Ma si prendiamo Trasformiamo l'intorno di grigio Ok? Anche se non è Comunque Ok trasformiamo l'intorno di grigio Che dovrebbe essere Auto Equalize Come dice la parola Equalizzazione Trasforma l'istogramma in qualcosa di più piatto possibile Vedete che adesso è molto piatto Ora questo ha fatto sì che Il contrasto qui si è aumentato in modo fortissimo Ok? Si è aumentato veramente molto 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 Ok? Infatti se noi ingrandiamo Riusciamo a vedere cose Che prima non si vedevano Attenzione questo non significa che noi abbiamo Creato dei dati nuovi Significa soltanto Che li abbiamo esaltati Ok? Tant'è che se voi andate qua Vedete che ci sono anche Qui noi abbiamo esaltato In uguale maniera Anche il rumore del sensore Vedete questo E il rumore del sensore Ok? Che ovviamente sarebbe meglio non esaltare Però questo è un altro discorso Se noi qua ci mettiamo in lineare Vedete che l'istogramma è diventato Praticamente piatto Quindi ha funzionato bene Però vedete che ci sono anche delle righe Che non sono tanto belle Ok? Quindi E quando ci sono delle righe nell'istogramma C'è qualcosa che non va Perché significa che Per passare da un tono di grigio all'altro Non c'è un tono di grigio intermedio E pertanto Si hanno dei salti E quindi la qualità dell'immagine Ne risente Ok? Bene Allora qui abbiamo fatto l'operazione A 16 bit Adesso io faccio CTRL Z E torno come ero prima Ok? Adesso passiamo A 8 bit Ok? Allora lui mi dice Cosa voglio fare Io vabbè Non mi faccio troppi problemi Converto Ok? L'istogramma vedete Apparentemente lo stesso Però adesso siamo a 8 bit Ora Adesso io Rifaccio la mia trasformazione Eccolo qua Ok Bene Se ci fate caso Vedete Lo posso anche mettere così L'istogramma adesso È molto Ma molto Più a righe di prima Cioè Ci sono molte più righe Allora Se lo vogliamo vedere meglio Possiamo andare a prendere Levels Vedete Ci sono tantissime righe Nel senso che ci sono Tantissimi spazi Persi Ok? Allora voi direte Bah Chi se ne importa In realtà no Perché se io adesso Provo ad effettuare Una qualche ulteriore operazione Di Diciamo Di Modifica Dell'istogramma Per esempio Io prendo soltanto Questo pezzo qua Intermedio Ecco qua Vedete che l'immagine È Molto Scadente Ok? Si dice in termini fotografici Si dice che Povera In termini di toni Ok? E vedete l'istogramma Come è diventato Completamente a righe Molto distanziate Tra di loro Allora Io adesso Torno indietro Torno ancora indietro Adesso siamo a Dovremmo essere a Ecco qua Aspettate Voglio solo controllare Vedete Siamo a 16 bit Ok? Quindi adesso A questo punto Io faccio Di nuovo L'equalizzazione Ottengo lo stesso risultato Anche qui ci sono Delle righe Ma meno di prima Adesso A questo punto Io vado a prendermi I livelli Vedete che ci sono Delle righe anche qua Ma meno di prima Allora Vado ad estrarre Più o meno La stessa parte Che avevo prima Eccolo qua Ora L'immagine È naturalmente Medioca anche qua Però se ci Fate caso Si hanno Maggiori Migliori passaggi tonali Ok? Ora Quindi cosa significa Tutto ciò? Significa che Sostanzialmente Io faccio un po' Di ctrl z Ecco qua Questo significa Sostanzialmente Che L'istogramma Deve essere Prima di tutto Il più a destra possibile Ma non troppo a destra Poi Se volete effettuare Riconoscimenti Di vario genere È ottimo Che Che vi siano Delle Parti ben precise Di histogramma Per esempio In questo caso È molto molto facile Estrarre la luna Con precisione Notare altre che Noi non solo Possiamo estrarre la luna Possiamo anche estrarre I mari Dalle parti più luminose Vedete? Adesso guardate Ve lo mostro meglio Allora Vi ricordo che i mari Sono questi Sono formati Sostanzialmente Da lava Che si era depositata In tempi andati Mentre invece Il resto Sono superfici più brillanti Questo è un cratere Molto recente Noi facciamo levels Adesso io faccio Una cosa Vado a prendermi Soltanto una parte Dell'immagine E cioè Vado a prendermi Soltanto i mari Ecco qua Vedete? Ho preso Solamente i mari Ok? Altrimenti Se voglio Posso prendere Solamente I Andiamo a prendere Solamente Il resto La parte restante Vado a prendere Cioè Il secondo La seconda montagnola Dell'istogramma Mi metto così Ecco qua Vedete? Sono riuscito a evidenziare In modo differente Per esempio Questo è il nostro Satellite di prima Vedete che Sono riuscito ad estrarre Dei dati Che ripeto C'erano già prima C'erano già prima Ma Vedete? Tutti questi sono I cosiddetti Ejecta Cioè Quando c'è stato L'impatto Qui si è formata Una raggera Di materiale Eiettato Durante l'impatto Subito dopo l'impatto Ed è impressionante Perché vedete che Ricopre Praticamente Una buona parte Della luna Comunque Questo significa In sostanza Che Notare che Questo colore È artificiale Ed è dovuto Al fatto che Noi l'abbiamo Un po' forzato Ma se noi andiamo A fare esempio A fare una cosa del genere Colors Auto White balance Ok Adesso vedete qui L'abbiamo fatto diventare Un po' più bianco Per me in realtà Volevo fare un'altra cosa Auto Equalize Ecco qua Allora Che è quello che avevamo Già visto prima Se ci fate caso Questa zona Adesso è diventata Più blu E questa è diventata Un po' più rossa Sembra incredibile Ma in effetti La luna è proprio così Nel senso che ci sono zone Con colori diversi Anche qua vedete Questo è diverso Da questo Quindi abbiamo anche Se vogliamo Cambiato Forzato La differenza Tra i colori Che qua invece Non si vedrebbe Quindi Ripeto Se noi vogliamo avere Una Immagine di valore scientifico L'istogramma deve essere A destra Il più possibile Non troppo a destra Primo Questo perché Ci sono considerazioni Di rumore Che vedremo più avanti Ok I parametri Con cui viene scattata La fotografia Sono soltanto due E quindi Il tempo di posa E il diaframma Quindi la quantità Di fotoni Cioè il tempo Attraverso il quale Per il quale I fotoni possono cadere Sul sensore E quanti fotoni Passano al secondo Perché il diaframma Cioè il foro Sostanzialmente Più aperto Oppure meno aperto Quelli sono gli unici Due parametri Che noi possiamo controllare Quando vedremo Delle telecamere Industriali Vedremo che di parametri In realtà Ce ne sono tantissimi altri Ma sono tutti Parametri secondari Quindi Abbiamo Questo discorso Dell'istogramma Abbiamo la possibilità Di separare l'immagine In varie Sottoparti Abbiamo anche La possibilità Di applicare Filtri Filtri di vario genere Che è quello che vedrete Nel laboratorio Per esempio Qua io se voglio Posso applicare È un filtro gaussiano Che cos'è un filtro gaussiano Che cos'è un filtro gaussiano È un filtro Sostanzialmente Che in qualche maniera Mi Smussa L'oggetto Ok Per esempio Se io faccio così Io Faccio così Vedete che I dettagli Sono un po' Andati a farsi bene dire Se io adesso faccio Control Z Vedete che Adesso ci sono Di nuovo i dettagli Se io faccio redo Vedete che i dettagli Vengono Parzialmente ridotti Ok Questo È un filtro Di blur E poi Ci sono Vari altri filtri In particolar modo Una delle filtri Che vi potrebbe Servire Per il laboratorio È questo E cioè La matrice di convoluzione Che vedremo brevemente E con questo Si possono fare Tutta una serie Di cose Interessanti Ok Quindi Vi ricordo Per chiudere Questa parte Che L'immagine In questo caso È a 16 bit L'ho scelta apposta Ho scelto un'immagine A 16 bit E ho scelto anche Un'immagine In cui Ci sono Due parti Ben distinte Tra di loro Ok Non solo Addirittura Se uno va a vedere L'istogramma Vede addirittura Che la parte Corrispondente alla luna È addirittura Essa stessa Suddivisa in due parti Pertanto io posso Volendo Avere due ulteriori Sottoparti Ok Bene Quindi Qui sostanzialmente Abbiamo visto Quello che ci serviva Possiamo Chiudere l'immagine Ovviamente Lui mi dice Mi chiede se voglio salvarla Io non voglio salvarla Quindi posso Chiudere E adesso Torniamo alle slide Abbiamo ancora Alcune cose In realtà Volevo soltanto Dire due parole Poi Passeremo Chiuderò Questa Prima ora E Realizzeremo Realizzeremo Una seconda ora In cui poi si continua Quindi allora Vi stavo dicendo Adesso possiamo tornare qua Questo è il corso Bene Allora Torniamo dunque Al nostro Punto di forza E cioè Le immagini Ok Che cos'è un'immagine? L'abbiamo vista in azione Con il GIMP È una funzione F di xy Discretizzata Sia nello spazio Che nella luminosità Ok Questa discretizzazione È un problema serio Perché naturalmente Richiede l'uso Del teorema del campionamento Perché altrimenti Non funziona È anche discretizzata In termini di luminosità E come vi ho detto prima In termini di luminosità Il lavoro viene effettuato Dal convertitore analogico digitale Che c'è a bordo Del sensore Sopra il sensore Di solito O nel sensore O nell'hardware Correlato Quindi questa immagine È una matrice Fino a svariati milioni di pixel Costituita fino a Svariati milioni di pixel Infatti esistono Si arrivano fino alle gigapixel camera Quindi addirittura miliardi Ora A cosa vediamo Noi in questo corso Così riepiloghiamo un po' Noi vediamo L'acquisizione delle immagini Sulla quale Porremo particolare attenzione Il trattamento Il pretrattamento Delle immagini Importantissimo Per generare immagini Di elevata qualità E poi vedremo anche Una serie di algoritmi Semplici Per trattare queste immagini Quindi per estrarre dati Vi ricordo che in generale Se è possibile È sempre meglio Usare un algoritmo semplice Perché chiaramente Un algoritmo come le reti neurali È molto potente Va usato sicuramente In casi complicati Però in ambito industriale Almeno per il momento Le reti neurali Non vengono utilizzate Verranno probabilmente Utilizzate nel futuro Si comincia già in effetti Ad utilizzarle in piccola parte Ma richiedono Una potenza di calcolo Consistente E soprattutto La loro applicazione Da dei risultati Non sempre deterministici Nel senso che Potrebbero cambiare Lievemente Da una volta all'altra A seconda di Tutta una serie di parametri E questo in ambito industriale Non è Molto accettabile Naturalmente Quindi Noi vedremo anche Quindi Delle cose di computer vision Non Non in dettaglio Però Vedremo Per così dire La computer vision industriale Quindi quella che serve A livello industriale E Cosa fa la computer vision? Tenta di emulare La visione umana All'interno delle macchine Ok? Quindi Noi abbiamo Che l'image processing Si riferisce Alla manipolazione Delle immagini Ma Sia L'image processing Sia la computer vision Si riferiscono All'analisi di immagini Ok? Quindi Se io scatto Delle fotografie Con qualcosa Con qualsiasi sistema Ebbene Poi posso analizzarle E posso anche Manipolarle Quindi posso Analizzarle In sostanza Ok? Vi ricordo Che questo corso Non si occupa In alcun modo Di sintesi di immagini Quindi La grafica Normalmente Viene suddivisa In due grossi filoni La sintesi di immagini E l'analisi di immagini La sintesi di immagini C'è ad esempio In corsi come In realtà virtuale In cui voi Ovviamente Create immagini Ok? Immagini di sintesi Che possono essere Più o meno reali Invece in questo caso Noi ci occuperemo Unicamente di analisi Di immagini Cioè utilizzeremo Immagini Già esistenti Già scattate E provvederemo Ad analizzarle Al fine di estrarre Dei dati Nella maggior parte Del corso Più che estrarre Dei dati Ci occuperemo Di analizzarle Per cercare di capire Come catturarle Nel modo migliore possibile In quanto Catturare immagini Di elevata qualità È la chiave Sicuramente Per garantire poi Che il processo Di acquisizione E quindi Di elaborazione successiva Funzioni bene Ok? Direi che con questo Terminiamo La prima metà E ci risentiamo A tra poco